Ciao a tutti da Cristian TG, il salutatore del blog, direttamente dalla fila di Roma per la mossa di bellezza internazionale dei bellissimi amici 4 Zampe ecco abbiamo Udini e abbiamo un saluto da Salomon, Ermanno, Alex, Massimiliano, Barbara loro vengono da Napoli, Roma, Pordenone, Napoli, Varese e voglio salutare insieme a me al salutatore del blog tutti gli amici di YouTube MySpace e Facebook Ciao a tutti dalla fila di Roma, Cristian TG e gli amici degli amici 4 Zampe Ciao